Sono due storie tragiche quelle che si sono verificate nell'ultimo fine settimana a Pesaro. Due vite spezzate, i cui giovani protagonisti avevano 18 e 26 anni. Due drammi diversi, che in comune hanno solo un finale terribile. La prima di queste due vite terminate prematuramente è quella di un ragazzo appena maggiorenne. Originario di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nell'abitazione di un'amica residente a Gradara ed è stata proprio quest'ultima a constatare il malore del giovane mentre nel primo pomeriggio si era recata nella sua camera da letto per svegliarlo. Le condizioni del ragazzo però erano apparse già molto gravi. Dopo aver visto che l'amico era in preda di una crisi respiratoria, la ragazza ha immediatamente allertato il 118. A nulla però sono valsi i tentativi di rinimazione effettuati dai sanitari all'interno della casa e nemmeno il trasporto del giovane paziente all'ospedale è servito a cambiare il corso degli eventi. Per i diciottenne non c'è stato nulla da fare. Diverse le piste a vaglio dei carabinieri per stabilire le cause che hanno portato alla morte del ragazzo. Gli inquirenti indagano su una possibile overdose, così come non è stata archiviata l'ipotesi che a causare la morte del diciottenne sia stato un attacco cardiaco di origine naturale. Soltanto l'autopsia sul corpo del giovane affidata all'Istituto di Medicina Legale di Ancona stabilirà con esattezza le cause che hanno portato al decesso del giovane. Nel tardo pomeriggio di sabato invece i sanitari hanno ricevuto una chiamata che preannunciava il verificarsi di una nuova tragedia. Protagonista sempre un giovane ragazzo, classe 1994, residente a Pesaro e più precisamente nel quartiere di Villa Fastigi, che proprio all'interno della sua abitazione ha deciso di togliersi la vita impiccandosi. A scoprire il corpo del 26enne è stato un familiare, il quale ha poi immediatamente avvertito i soccorsi. Dopo diversi tentativi di rinimazione però, i sanitari si sono dovuti arrendere, dichiarando il decesso del giovane. Anche in questo caso i carabinieri sono alla ricerca di motivi che hanno spinto il ragazzo a compiere il tragico gesto. Il 26enne, che soffriva di problematiche depressive ed era inserito all'interno di un percorso terapeutico, non ha lasciato alcun tipo di dichiarazione scritta utile a comprendere le motivazioni alla base del triste gesto. Sarà fondamentale dunque il lavoro degli inquirenti, intervenuti sul posto al momento del ritrovamento del corpo. Due drammi che si sono consumati all'indomani del tragico incidente stradale che nella notte tra giovedì e venerdì ha spezzato la vita di un altro diciottenne, Rusion Kerkuku, il quale, mentre percorreva la strada degli interquartieri di ritorno dal lavoro e a bordo del suo ciclomotore, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. I funerali si svolgeranno martedì alle 16 nella chiesa di Montecchio.